Siamo già arrivati all'epilogo di questo bellissimo viaggio. Leva la mano, fidati. Fermo, fermo, via, lascialo. Bravissimo. Quando tu metterai l'inforcatura meglio, il corpo verrà da solo, più qua. Ho riconosciuto un po' i miei limiti, e quindi cosa che non avrei fatto mai a casa. Loro ci hanno dato degli input che noi dovremmo continuare a lavorare su questo. Vi siete impegnati perché lo so, vi siete alzati sempre alle 7 la mattina perché ne ero testimoni, e siete andati a letto la sera veramente stanchi, ma avevate lo sguardo soddisfatto. E' tornata da casa per venire qui questa sera con voi.